Ringrazio altri parlamentari tra i mondi che stanno aggiungendo i nostri lavori, è arrivato l'onorevole Vittaris, l'onorevole Cristina di Etina, l'onorevole Platio di Muro, gli eravamo ringraziati all'inizio quando sono arrivato l'onorevole Rosa di Turri, poi abbiamo il piacere e l'onore che ci ha raggiunti, l'onorevole Giorgia Piloni, a cui chiederei di portarci un saluto e una riflessione. Buonasera a tutti, grazie al Centro Studi di Latino, grazie a tutti i presenti, mi dispiace davvero di non aver potuto seguire tutto il convegno, di non poter restare molto, stasera Alfredo lo sapeva, ho fatto davvero un salto mortale per esserci, per portare la testimonianza di fratelli vitari al nostro intento. Io penso che l'approccio giusto quando si parla di queste materie, proprio perché il tentativo è dire che da una parte ci sono i buoni, i giusti, e dall'altra ci sono i mostri, gli ignoranti, c'è l'antichità, c'è quello che si dovrebbe essere superato, proprio per questo l'approccio serio a questa materia, e l'appropondimento, e fare domande di buon senso, perché la questione qui non è una questione professionale, veramente io non ho, io per prima, sono una credente, ma non faccio queste battaglie per l'approccio professionale, faccio queste battaglie per laico un buon senso, faccio queste battaglie per sono una persona attivata a farsi delle risposte, e che pretende quando faccio le risposte, quelle domande, scusate, farsi delle domande, che pretende quando si fanno le domande, e vedete le risposte, che ha un senso. Allora, vedete, serve in Italia una legge come questa? Si sostiene che serve in Italia una legge come questa? Lo fa, sono sempre per tutte le presupposte. Il primo, esiste in Italia un'escalation di reati di odio contro, appunto, sul tema dell'identità di genere, dell'orientamento sessuale, c'è un voto normativo di questa materia, e lo dobbiamo fare con una serie di attenzimenti internazionali, la famosa sociologia dell'Europa, l'Europa ci viene sempre proposta, tragica. Quindi, nessuno dei tre presupposti è vero, nel senso. Per quello che riguarda l'escalation dei reati basati sull'identità di genere, non io, chiaramente, non mi permetterei, ma l'osservatorio preposto, l'osservatorio per la sicurezza contro gli altri discriminatori, dice che le circa, delle circa 1.500 segnalazioni che sono state fatte dal 2010 al 2018, quindi in 8 anni, circa due cento riguardano complessivamente tutti i reati che possono essere collegati al tema dell'escalation di genere. Quindi, 200 segnalazioni di hate speech o hate crime in 8 anni, che per carità sono importanti, e vanno ovviamente considerati a dire che rappresentano l'escalation nel nostro sistema, che è un'escalation di intervento. Mi vale fuoco. Io, diciamo, non sono qui a parlare della mia identità di genere, ma se dovessi contare gli hate speech di cui sono vittima ogni giorno, io ne conto almeno 100 a giorno, ma nessuno ha proposto un'estituzione, dove avrete, ma non ha senso, perché non ha senso, a questo non ho bisogno di rispondere io, perché a tre comandare poi, alle persone che sono sedute dietro questo tavolo, a quello che questo libro raccoglie, si sa che nel nostro ordinamento l'offesa verso la persona, la minaccia verso le persone, la violenza verso le persone, è pulita. Per questo non c'è una legge sulla melodifobie, perché io sono un cittadino, un po' di un ideale, che mi è fatto oggetto di violenza o di hate speech, che per questo deve essere ovviamente difeso, come tutti i cittadini. Terza questione, quella della normativa internazionale, proprio non ha alcun fondamento, non è vero, perché noi abbiamo degli obiettivi internazionali che ci pongono a colpa niente di questione. Allora, perché serve questa legge? Guardate, ce lo dice bene, io non scapparò. Ina Scalparotto, nella relazione alla sua proposta affinata alla legge Zanna, dice che la norma penale contribuisce a costruire la modernità della cultura. Un reato di opinione. Vuol dire un reato di... Una matricoletta, non ce l'aveva sapere. Un reato di opinione. E allora siamo di conto un'altra cosa. Io, in genere, non sono, diciamo, favorevole a questo momento. Ma qui, penso che noi facciamo un passo ulteriore. Perché, vedete, la norma ha bisogno di certezze. Le leggi non si fanno sulla base degli istinti, o sulla base delle passioni, o sulla base di come ci svegliamo la mattina. La legge ha bisogno di certezza. La legge deve essere generale, ma non può essere generica. Invece, noi stiamo assistendo piano piano a una verità secondo la quale la norma può cociare su, diciamo così, fondamenti non impirici e termini non giudici. Ti faccio un esempio che non riguarda quel tema di oggi. Gli affetti stabili. Quando il governo ha stabilito il principio che si potevano incontrare gli attenti stabili, in Italia si è fatta tanta ironia su una cosa, no? Bene, tutti che ridevano contenti. Ma quello era un precedente molto vero. Perché fare una norma su un termine che non ha una certezza giuridica significa fare una norma che viene applicata discrezionalmente. se tu non hai la certezza di cosa sia l'affetto stabile e che giuridicamente l'affetto stabile non è, diciamo, codificato, che cosa sarà l'affetto stabile? Bene, qui me lo chiede. La discrezionalità dell'applicazione della norma simile a un concetto che lo sanno e dei limiti. Allora, vedete, qui purtroppo noi siamo di fronte a una situazione molto simile perché la l'identità di genere e l'orientamento sessuale. Qualcuno di voi sa dirvi esattamente cosa sia l'ideale all'identità di genere l'orientamento sessuale? L'app degli appuntamenti conta 29, se non fate errada, di identità di genere. Circa 9 orientamenti diciamo, quindi come si fa a stabilire esattamente cosa si intenda per non essere discriminatori? Esempio, se qualcuno domani in una scuola mi dice che i bagni per i maschi e le femmine sono discriminatori, noi che facciamo 29 bagni diversi? Altrimenti stiamo discriminando? E quando saranno più 29 diventeranno 31, 32, 33? Si diceva, mi pare Massimo, che ci sono diversi milioni per distribuire la giornata. Io, prevista dalla legge Zani, io penso che diversi milioni sentiranno trovare il nome. No, cioè, la legge è molto rollata, la sfobia, la... no, ce ne sono 29, e diranno 52, tu sei arrivato, sei più avanti di me, io ho la questione vecchia dell'altro. E vi dico di più, qual è la base empirica per stabilire che alcune cose che si pensano, si dicono, sia proprio? Anche qui faccio un fatto personale, si dice a Montecitorio, no? è il fatto personale. Io vengo definita omofoba una volta al giorno, due volte al giorno, dieci volte al giorno. Perché? Perché la persona di buon senso considera che il potere in affitto sia una pratica barbara. Penso che pagare una madre che vende il suo figlio per difficoltà economica e che vende i tuoi soldi per comprare quel bambino e privare quel bambino di una madre che è tuo padre non sia modernità. come è il suo? Non mi convincerete a dire una cosa diversa, nessuno mi può convincere a dire una cosa diversa, significa che io odio qualcuno, no, significa il modo di vivere quel bambino. Io ho questa condizione per amore che è il più pevole che è quel bambino che non è vista. Io sono una persona che è cresciuta senza un padre. So che si può crescere felici, sì, ma non vi convincerete a stabilire che lo Stato dice per legge che un bambino può essere privato di un padre con una madre perché che lo considerano giusto. È odio? Secondo me no, secondo me è buon senso, anche questo, è uno Stato giusto, non si occupa del più forte. Uno Stato giusto si occupa del più debole, vedete il paradosso, l'ho già detto in qualche altra occasione, il paradosso nella nostra quotidianità è che noi viviamo in una società nell'attuale che ha voce e magari soldi per imporre, difendere le sue idee vale molto di più perché quella voce non ce l'ha, ma uno Stato giusto si occupa di quello che non ha questa voce, si occupa di quel bambino che non sta dall'altra della telecamera e che non ha una voce per la piazza. È odio questo? Io non penso che sia odio, però io l'ho già detto che mi occupavo un giorno perché il momento di sostenere queste materie, queste battaglie ripeto del assoluto del laico consenso. Allora vedete io penso che il problema sia un po' più alto di quello che voglio raccontare e penso che dobbiamo sempre ricordarci che quando si leggera su qualcosa si apre un precedente molto importante. La legge può essere una voragine quando si stabilisce un principio di pensare e porre la domanda su dove quel principio ha applicato le situazioni più eterogeneiche o portate in varie come si abbia questa capacità di capire che le leggi sono una forza molto semplica. Questa è una delle ragioni cercando di entrare dal punto del legislatore prevalentemente del mio cuore si rischia di creare davvero delle discriminazioni importanti e dei cortocircuiti culturali straordinari perché avrete visto che adesso l'arci gay vuole cacciare le arci lesbiche perché le arci lesbiche sostengono che negare l'identità sessuale l'identità femminile rappresenti il rischio di una discriminazione ed è vero in Australia c'è un'atletta nazionale australiana di pallamano maschile poi transgender adesso gioca nella nazionale di pallamano femminile 88 centimetri per 100 kg è lecito ritenere che quella sia una discriminazione nei confronti delle altre atlete che sul piano della tenuta fisica non sono in grado di competere o non si può dire perché altrimenti uno è discriminato e una cosa è combattere le discriminazioni ma non è prendere delle leggi allora alla fine io penso che sia tutto questo penso che questo non sia costruire modernità e cultura penso più banalmente che questo rappresente diciamo l'antico inizio di alcuni a prendere la scorciatoia di reprimere idee punti di vista che non si hanno più argomenti per affrontare però quella non si chiama modernità e non si chiama cultura casomai si chiama legge e noi lo guardiamo grazie grazie a tutti grazie a tutti